Su questi stessi temi l'opinione dell'azienda Lista. La parola Claudio Ceradini, dottore commercialista in Verona. Grazie. Grazie, grazie Laura. Benvenuti a tutti anche da parte mia, grazie dell'invito. Anche per me è stato estremamente gradito, anche considerando il titolo della giornata. E alcune considerazioni che faceva Laura prima in apertura sono da parte mia assolutamente condivisibili. Qui il punto è fare la scommessa più alta possibile. Quindi nella gestione della crisi tentare nei casi in cui è possibile di salvaguardare il valore di quelle imprese nella convinzione che sia l'unica possibilità o la miglior soluzione possibile per gestire quella condizione di difficoltà con il minor prezzo possibile da pagare da parte del sistema. Conserviamo il valore, conserviamo la base occupazionale, conserviamo un avviamento e quindi imponiamo al sistema collettivo il prezzo minore possibile. Ora il punto è questo. La confusione negoziata arriva come nuovo strumento e francamente secondo me se ne sentiva il bisogno. Prima che arrivasse il risanamento reale o si riusciva a completare al di fuori degli strumenti allora concessi oppure quegli strumenti, anche il piano attestato che risolveva soltanto parte dei problemi, ma gli altri strumenti in realtà imponevano un livello tale di invasività in alcuni casi, un livello tale di costo per cui era francamente difficile pensare che potessero essere di reale ausilio rispetto a un piano di risanamento che fosse stato anche correttamente progettato. La confusione negoziata in realtà è giovane, un anno, un anno e mezzo se vogliamo includere anche la parte gestoria iniziale e quindi evidentemente è in una fase ancora di collaudo, ma sicuramente sta dimostrando la sua efficacia. Io concordo con l'Avvocato Sanzo, non sono, non concordo invece con coloro i quali non attribuiscono a questo nuovo strumento un tasso di efficacia ragionevolmente credibile. Se voi guardate un pochino di numeri, i casi di risoluzione positiva della composizione negoziata e cioè sostanzialmente gli articoli 23,1 lettera A e C, uniamoci anche ai piani attestati, gli accordi di ristrutturazione, sono progressivamente cresciuti dall'inizio, dall'introduzione del nuovo strumento. Oggi non siamo distanti dagli altri, onestamente. Io ho provato anche a informarmi fuori, ho provato a guardare uno studio interessantissimo fatto dall'Albert University sul Chapter 11 negli Stati Uniti. Sono i padri del risanamento, del free start, per cui chi meglio di loro sa fare queste cose e devo dire che dopo 12 mesi non siamo lontanissimi e i dati suggeriscono però qualcosa. Io mi limiterò qualche riflessione su quello che i dati suggeriscono e quindi sul conseguente comportamento che dovremmo adottare per rendere questo strumento il più efficace possibile. Ora guardate, mentre all'inizio, un anno fa più o meno, si contavano sulle punte delle dita i casi di successo della composizione a negoziare veramente pochissimi e quindi si è cominciato da là a dire non funziona, non sappiamo utilizzarla. In realtà si trattava di collaudarla. Progressivamente i casi di successo sono aumentati e oggi, negli ultimi trimestri, siamo arrivati più o meno a un caso su quattro. Il 25% delle istanze archiviate e chiuse si è chiusa positivamente. Voi direte, grazie, ne salviamo una e ne perdiamo tre. Verissimo. E su questo punto dobbiamo riflettere per trovare la soluzione migliore per aumentare questo tasso di efficienza, ma non possiamo dire che la composizione negoziata non funzioni. Se paragonate il dato con quanto accade negli Stati Uniti, non sono messi meglio perché la percentuale di successo, in una vastità molto più ampia di casi che vengono contemplati per l'esperienza maggiore che hanno, la percentuale di successo non supera il 17%. Hanno lo stesso nostro problema, e cioè quel tasso di efficienza, se computato, escludendo quelli che loro chiamano i DOA, i dead on arrival, cioè quelli che sono arrivati già morti e che non potevano contare, hanno semplicemente tentato di guadagnare tempo ma non potevano contare su un reale risanamento, è un'opzione di ripartenza, beh le percentuali salgono ancora e le nostre francamente nell'ultimo anno su mille casi, intendiamoci quindi su un panorama molto stretto, ma le nostre sono francamente percentuali che non sono distanti dalle loro. Dobbiamo aspettare che lo strumento si diffonda, dobbiamo aspettare che si utilizzi di più, ma su questo punto dobbiamo riflettere. L'esperienza americana, quello studio dell'alba degli universi, una cosa in più dice, il tasso di successo non è dissimile dal nostro, anche loro hanno molti DOA, accedere al chapter in 11 costa poco, quindi ci provano un pochino tutti, depurato da quel dato che evidentemente porta fuori strada, il loro tasso di successo dicevamo non è tanto diverso dal nostro, ma hanno un elemento in più che noi non possiamo avere, e cioè la valutazione per la quale i casi di successo, se parametrati unicamente a chi si è presentato all'apertura dello strumento del chapter 11 con un piano costruito e che poi ha ottenuto conferma, la percentuale sale al 70%, quindi il punto reale, per aumentare l'efficienza di questo strumento non è, ha sicuramente degli aspetti normativi da migliorare, ci sono delle cose che possiamo condividere o meno, ma non è quello il punto probabilmente, per migliorare l'efficienza significa fare due cose fondamentalmente, gestire l'anticipo, lo diceva Laura prima, gestire l'anticipo, ma quando? Quando partire? E costruire nel tempo che l'anticipo ti dà un'opzione di recupero che renda chiari, evidenti gli atti e le azioni da compiere affinché la composizione negoziata sia lo spazio il più breve possibile, perché in ogni caso in composizione negoziata non si vive sia la gestione, sia la gestione ordinaria, sia anche quella straordinaria, ma si vive in un ambiente controllato, per cui non c'è evidentemente la possibilità di esprimere tutte le potenzialità del risanamento, ma si viva in quella incomposizione negoziata per il tempo necessario ad ottenerne quegli effetti che il piano richiede siano dotati di solidità affinché possa realizzarsi. Quindi i due punti sono, molto rapidamente, l'anticipo. Possiamo scervellarci qui in sala a ragionare su quali siano i migliori indici, quali siano i più belli, quali siano gli algoritmi. In realtà il punto è diverso, a mio modo di vedere. Il reale punto è quello che poi è incluso anche nella definizione stessa di crisi contenuta dell'articolo 2 del codice. La visibilità a 12 mesi, ed è un, lo chiamiamo DSCR, quell'indice che rapporta il flusso di cassa disponibile con gli impegni finanziari. Quella ha un'ottica finanziaria, ma possiamo scriverlo e possiamo interpretarlo come vogliamo, ma l'adeguato assetto di cui parlava Laura prima, se non è capace di esprimere una previsione di questo tipo, e non è semplice farla, non è per nulla semplice farla nemmeno nelle aziende organizzate. Immaginiamoci cosa voglio dire in una microazienda per la quale in Italia siamo assolutamente i primi della fila come in densità di popolazione. Quindi questo tipo di informazione è difficile, ma è l'informazione che costruita sistematicamente ci consente di avere una percezione sufficientemente precisa dell'ossigeno disponibile. Se l'azienda perde, a me vengono in mente diversi casi che abbiamo in ufficio in questo momento, se l'azienda perde, erode patrimonio, erode cassa, ad un certo punto il fabbisogno finanziario della perdita si riverserà sull'unico posta possibile, cioè probabilmente se non vi sono altre capienze si riverserà non tanto sullo scaduto fornitore, tentiamo di salvarli fino all'ultimo momento perché sono la materia prima essenziale per me e quindi sono il collaboratore fondamentale per garantire la continuità, ma sull'unico creditore che a breve termine non mi chiede nulla, che è lo Stato in realtà. Allora questo tipo di circostanza, questo svilupparsi della condizione di crisi senza adeguato contrasto, conduce necessariamente a condizioni che tendono ad assomigliare più all'insolvenza che alla crisi. Quindi cominciare a pensare al progetto di riservamento con larghissimo anticipo rispetto a quanto siamo abituati a fare, diventa l'elemento fondamentale per poi presentarsi in composizione con le idee chiare. Secondo elemento, il piano. Ci sarebbero varie riflessioni da fare anche in tema di anticipo, però limitiamoci all'essenziale. Il piano deve, oltre che essere concreto e reale, c'è una bellissima checklist, l'articolo 13, secondo comma, prevede una checklist, è disponibile in piattaforma, si scarica, sono tre pagine, è facilissima da leggere, ha una logica perfetta. C'è un punto però, che non è che non sia giusto, è perfetto, ma è difficile, che è il punto che sta in mezzo, dalla diagnosi iniziale, alla situazione patrimoniale iniziale, benissimo, alla diagnosi organizzativa iniziale, benissimo, ma c'è un punto che è la strategia. Ora, quando si lavora su un piano di restart, la condizione normale è che non ci sono più soldi, c'è pochissimo tempo e c'è un clima aziendale tendenzialmente dimesso. I migliori se ne sono andati, forse, speriamo di no ancora, ma comunque tendono ad andarsene o ad ascoltare sirene esterne. Allora, la strategia di piano deve necessariamente essere imbevuta, a meno che non abbiamo l'intervento di un soggetto terzo che ci rileva, allora, per carità, è addirittura più facile, ma se dobbiamo ancorare le speranze di salvezza alla capacità e alla tradizione imprenditoriale che oggi si trova in difficoltà, dobbiamo andare a ripescare nel loro passato ascoltandoli, non insegnando niente in questo caso, ma ascoltandoli, cercare di capire quali sono gli elementi che possono in realtà condurre a piccoli elementi di variazione che abbiano due caratteristiche difficili da trovare. La prima, che siano poco costosi, non abbiamo soldi, possiamo anche trovare una holding interessata o un terzo interessato disponibile a finanziarci, ma lo potrà fare in condizione di relativa certezza e di sicurezza di rimborso del finanziamento che è disponibile a derogare, ma fondamentalmente dobbiamo continuare a cercare nelle capacità imprenditoriali di chi quella crisi in quel momento sta vivendo. E guardate, c'è un dato interessante, è un dato italiano, un dato strassonitense, di una ricerca o di un approfondimento sulla demografia di impresa sviluppato da Cerved. Era qualche anno fa, ma queste non sono situazioni suscettibili di vivere cambiamenti rapidi, per cui insomma quel dato sono sicuro che è un dato ancora attuale, ma era riferito al sistema precedente della composizione negoziata. Allora, quel dato diceva, al di là del numero di PMI, in Italia abbiamo circa 160.000 PMI nel quadro dei 6 milioni di attività, quindi immaginatevi quante ditte individuali piccolissime abbiamo, eccetera, ma nel quadro semplicemente dei 160.000 PMI che abbiamo in Italia, chi entra in difficoltà, la visione era quella delle procedure, evidentemente, chi entra in una procedura per cercare di risolvere il suo problema, la sua criticità, e ne esce con una proposta concordataria approvata, piuttosto che con un accordo di strutturazione omologato, entrambi omologati, quindi esce con successo dal percorso giudiziale soltanto nel 40% dei casi dopo tre anni ancora sul mercato. E in ogni caso soltanto il 5% di queste aziende hanno un fatturato semplicemente simile a quello che avevano prima di incontrare la difficoltà. Ora, io ricordo benissimo un saggio professore che mi diceva guarda, il fatturato è vanità, il profitto è un'opinione, quello che conta è il cassetto, il conto corrente. Quindi è vero che il fatturato non è l'indice di successo, evidentemente, ma è certamente un indice di vitalità. Per cui il problema del piano con il quale dobbiamo accedere alla composizione negoziata avendo le idee chiare su quello che vogliamo della composizione negoziata, quel piano deve essere un piano adatto, metabolizzato dall'imprenditore perché altrimenti usciti dalla composizione negoziata poi, come peraltro succede ma con meno frequenza negli Stati Uniti, l'esito naturale o l'esito innaturale di quel risanamento rischia di diventare un ritorno nella difficoltà e quindi con la necessità a quel punto di dover ricorrere nuovamente a un piano di risanamento. Quindi i due elementi fondamentali sono anticipo sufficiente per riuscire ad avere il tempo per elaborare un piano del genere, è lungo, non ci si impienano due giorni. Farlo in procedura è estremamente complesso, è molto più complesso che farlo prima. Bisogna arrivare perlomeno con l'80% delle idee chiare su quello che vogliamo della composizione negoziata. Allora se ci riusciamo ad arrivare e riusciamo ad avere un quadro complessivo per cui sappiamo che il risanamento dipende da un paio di interventi gestori poco costosi ma che richiedono un finanziamento che un soggetto terzo è disponibile a derogare e la condizione generale con i creditori operativi, quindi con i fornitori, è una condizione di tollerabile collaborazione ancora e riesco a distinguere tra questi collaboratori esterni, tra i fornitori, coloro i quali sono effettivamente essenziali per la vita dell'azienda e coloro che invece sono tra virgolette sostituibili, entro in composizione sapendo che dalla composizione la composizione deve offrirmi gli effetti necessari per consolidare l'output di piano, il che significa che se per esempio un terzo investitore che si è reso disponibile con poco equity ma con una certa leva a finanziare il piano di sviluppo, il piano di restart, richiede però una certa solidità alla capacità di rimborso di quel suo piano, l'accesso alla composizione negoziata posto che senza quel finanziamento non c'è risanamento e la crisi è evidente perché il DSCR mostra evidentemente l'incapienza dei flussi di cassa rispetto al fabbisogno, quindi in crisi ci siamo certamente, entriamo in composizione avendo una cosa da chiedere e quindi la prededuzione su quel finanziamento, la funzionalità di quel finanziamento rispetto alla continuità sarà evidente perché sarà sposata ad un piano che abbiamo depositato e che è frutto di un lavoro che è durato qualche mese prima di entrare in composizione e quindi anche la necessità di testimoniare al tribunale la funzionalità rispetto alla continuità di quel finanziamento è quasi l'output naturale del lavoro svolto fino a quel momento e dall'altra parte sappiamo che la composizione negoziata è capace di proteggerci in qualche modo dalla eventuale aggressione che dovessimo subire che sarebbe estremamente pericoloso da parte di quei fornitori che trattiamo meno bene degli altri, non siamo ancora nel momento in cui, nella fase in cui siamo tenuti ad operare pagamenti nel rispetto della par condicio, nell'interesse dei creditori, non siamo nell'insolvenza, siamo in quella fase di crisi per la quale l'interesse prevalente è l'interesse del mantenimento della continuità, della salvaguardia della capacità economica, finanziaria e patrimoniale della società e per cui siamo nella possibilità di decidere chi è più importante e chi è meno importante, ma la coerenza di questi pagamenti, riferendomi a quello che diceva l'avvocato Sanzo prima, la coerenza di questi pagamenti che l'esperto dovrà giudicare sarà più facilmente giudicabile nel momento in cui è derivante, deriva da un piano in cui abbiamo spiegato come mai questo tipo di creditori sono più importanti degli altri perché non ne potremmo trovare un altro prima di 12 mesi perché dura una collaborazione da anni, fornisce un pezzo speciale eccetera eccetera. Allora questo vuol dire che dobbiamo arrivarci in quel modo, la prededuzione tra l'altro adesso poi io quando parlo di diritto se hai difficoltà tu figurati io a confrontarci con Massimo, però la prededuzione in composizione per come è espressa la norma e con il riferimento diretto che ha l'articolo 6 non più come c'era nel decreto 118 al 111 legge fallimentare, se è vero che riferisce l'articolo 6 e se è vero che nell'articolo 6 c'è compreso anche il secondo comma per cui la prededuzione resiste, viene conservata anche nelle successive procedure concorsuali ed esecutive individuali, insomma vorrebbe dire che la prededuzione è dotata di una solidità che è straordinariamente superiore rispetto a quella di cui era dotata prima in cui invece bisognava analizzare la continuità della procedura piuttosto che della crisi. Se questo fosse confermato, e questa è una domanda, se questo fosse, io ne sono abbastanza convinto, non sono l'unico, ma se questo fosse confermato evidentemente quel piano che richiedeva quel finanziamento oltre ad altri elementi e quella protezione in composizione negoziata trova quelle misure e quegli effetti che consentono quel piano di essere più solido di prima. Ma se invece l'anticipo lo perdo e dentro in composizione sperando di trovare in composizione una soluzione, vendendo l'immobile per avere i soldi per andare avanti senza avere un piano, senza sapere che cosa fare e attendendo semplicemente il futuro, evidentemente questo tipo di approccio che per carità in alcuni casi è è l'unico possibile, ma questo tipo di approccio è estremamente rischioso evidentemente perché o trovo una soluzione miracolosa in poco tempo oppure probabilmente divento uno di quei casi per cui o falliscono le trattative oppure l'esperto non giudica che ci siano i presupposti per il risanamento e al momento sono un terzo, un terzo, quindi sono il 60%, questi casi tra le istanze archiviati il 60% vengono chiuse in questo modo. Quindi il punto è veramente questo, cercare di attivare con grandissimo anticipo molto vicini al momento in cui eravamo ancora in bonus, partiamoci subito potremmo anche scoprire di non aver bisogno della composizione negoziata perché riusciamo a fare cose dal di fuori della composizione negoziata, ma se alcuni elementi di quel piano si rendono effettivamente richiedono effettivamente di beneficiare degli effetti della composizione per essere resi più solidi evidentemente a quel punto uso lo strumento per ottenerne quegli effetti che consolidano il piano e aumentano le probabilità di successo. Avendo poi costruito un piano metabolizzato per qualche mese con l'imprenditore, probabilmente riusciamo a fare qualcosa di meglio rispetto a quello che riuscivamo a fare uscendo dalle procedure concordatarie o simili prima che la composizione fosse introdotta. Ecco quindi credo che onestamente, e chiudo qui, credo che onestamente il punto sia veramente questo, la composizione funziona benissimo, lo strumento funziona benissimo, secondo me è leggero, estremamente efficiente, relativamente poco costoso, il vero costo è prima, è risanare, è fare il piano. Lo strumento di per sé è uno strumento efficace, dobbiamo renderlo efficace, cioè dobbiamo in qualche modo affrontarlo e usarlo come si deve. Mi viene in mente, giusto per chiudere, quando ero giovane facevo uno sport, facevo regate in barcavela, l'allenatore ci diceva che le regate si vincono a terra, prima ti devi preparare, poi le vinci. E' più o meno uguale, la composizione si vince a terra, cioè bisogna prepararci prima, dobbiamo avere a disposizione strumenti e idee sufficienti che alimentino il risanamento, se è possibile, perché può darsi anche che non ci sia la possibilità di risanare, e a questo punto in composizione probabilmente vinciamo. Se non lo facciamo, usciamo in acqua, però poi dobbiamo capire e cercare di prendere quello che arriva. Grazie. Grazie anche al dottor Ceradini per averci portato le sue esperienze e per aver fornito tante suggestioni sulle quali dibatteremo. Grazie. Grazie.